Il Carnevale in città 2014 del comune di Pordenone è interamente dedicato ai bambini e alle famiglie, che avranno la grande piazza 20 settembre tutta per loro, per passare un martedì grasso all'insegna del gioco, del divertimento e della creatività. Il tradizionale veglioncino dei bambini è infatti in programma martedì 4 marzo a partire dalle 14.30. Il laboratorio creativo, condotto dall'esperta Giulia Artico, sarà dedicato alla realizzazione di principesse, diavoli e unicorni, mentre l'oratorio Don Bosco proporrà giochi e animazioni per divertirsi con semplicità e allegria con vecchi e nuovi amici. La giornata è realizzata in collaborazione con Loyal, i cui allievi saranno a disposizione di tutti, ma in particolare dei più piccoli, per realizzare trucchi fantasiosi e pettinature fantasmagoriche. Proloco Pordenone e supermercato Crai di Angelo Carlette si occuperanno del ristoro tra bevande e piccole dolcezze e per i più scatenati non mancheranno i giochi gonfiabili. L'assessore comunale alla cultura Claudio Cattaruzza. Anche quest'anno l'amministrazione comunale organizza e promuove il carnevale per i bambini in piazza 20 Settembre, quindi con la collaborazione di Don Bosco, del Crai Carlette e della Proloco di Pordenone faremo una splendida giornata di festa, augurandoci che il tempo sia clemente e il sole splenda su piazza 20 Settembre. Vi aspettiamo tutti numerosi martedì 4 marzo a partire dalle 14.30.